Milano Ristorazione ha deciso di passare all'utilizzo di un materiale compostabile e riciclabile perché nel corso degli anni ha sviluppato una particolare attenzione ai temi della sostenibilità ambientale e quindi a partire già dal 2012 ha avviato un processo di cambiamento del coperto che prima era in materiale plastico con l'utilizzo di un diverso materiale che è completamente riciclabile e compostabile. Il Mater B perché? Perché è un materiale che dà tutte le garanzie dal punto di vista della rispondenza agli standard europei e è completamente riciclabile e completamente poi compostabile. Quindi per noi aveva molti vantaggi, aveva il vantaggio di poter essere eliminato direttamente con l'umido e quindi di poter entrare poi in un processo circolare. Il valore aggiunto di una collaborazione con un player importante come Novamont è sicuramente quello di avere ampie garanzie sul materiale utilizzato. È molto importante naturalmente richiamare anche quali sono i numeri di questa operazione che abbiamo condotto in questi anni perché a regime noi risparmiamo qualcosa come 740.000 kg di plastica all'anno. Si tratta sicuramente di quantità veramente importanti che altrimenti sarebbero state avviate a un processo di incenerimento mentre le stesse quantità di materiale oggi possono essere avviate a un percorso di compostaggio e di riciclaggio integrale. Grazie.